Il pittore e scultore sulmonese Umberto Malvestuto, nell'ambito del bimillenario di Ovidio, ha esposto nove tele, tutte riferite a mili ovidiani. Le tele sono state preparate, dipinte, a partire dallo scorso giornalio fino al giugno in corso. La mossa è stata allestita nel foie del Teatro Comunale Maria Caniglia, promossa durante un'iniziativa della nostra cavalleresca di Sulmone, intitolata appunto Celebrando Publio Ovidio Nasone. Dal momento che ho insegnato per tanti anni latino nei licei, ho subito colto il suo invito a fare qualcosa insieme. Lui avrebbe sviluppato dal punto di vista pittorico i miti e io avrei dovuto raccontarli sulla base di quanto Ovidio ci dice nelle metamorfosi, perché in effetti le metamorfosi sono l'opera monumentale da cui l'Occidente, tutti gli artisti dell'Occidente e oserei dire anche tutta la civiltà occidentale, ha attinto a piene mani. Occorrerebbe molto tempo per raccontare la vita artistica e le opere realizzate dal professore Umberto Malvestuto, docente di Materia Artistica, il quale opera i vari campi dell'arte fin dal 1960 a livello nazionale ed internazionale. Malvestuto è un artista poliettico, pittore, ritrattista, scultore, grafico, scenografo e restauratore. Numerosi sono le personali realizzate in gallerie di prestigio, sia in Italia che all'estero, numerosi gli encomi, riconoscimenti ottenuti in importanti collettive. Ricordiamo il sigilo della città di Sulmona per la realizzazione scultoria del soldato morente, monumento ai caduti. Attestati di Casa Savoia per le pale pittoriche di San Maurizio, predettore di Casa Reale, realizzate a Monguelfo e Pesco Costanzo. Per quanto attiene alla pittura Malvestuto, si ispira al movimento artistico neofigurativo, ma con connotazioni tutte personali, frutto di continua e costante ricerca. Dicevamo la storia artistica di Malvestuto è ampia, ci limitiamo a ricordare due sculture di grande fascino e di grande valore artistico e sociale. La statua di Madre Teresa da Calcutta, retta in prossimità della sede della Croce Rossa a Sulmone, ed il busto marmoreo del celebre soprano Maria Caniglia, che tuttora è esposto all'ingresso del teatro che porta il suo nome. Ma ora veniamo ai miti di Ovidio, realizzati da Malvestuto. Olio su tela, si tratta di tele abbastanza ampie, 100%, raffiguranti alcuni miti raccontati da Ovidio. Il mito di Io, Mercurio ed Argo, Apollo e Daphne, lotta dei centauri e lapiti, il mito di Enea, il minotauro Teseo ed Ariane e ancora altri. La mostra di Malvestuto è stata al centro dell'evento celebrando video ed è stata molto visitata. Un giudizio critico è stato espresso dalla professoressa Palma Crea. Valeva proprio la pena di arrivare insieme a questo traguardo per dimostrare come attraverso la pittura e attraverso la poesia il nostro genius loci, il nostro video, veramente destinato a restare eterno nei secoli.